Stanno combattendo una guerra impari contro questo nemico invisibile che sta mettendo in ginocchio tutta la società. Siamo a Famiglia Nova, la casa albergo per anziani di Fano dove purtroppo il virus è penetrato ed ha già fatto tre vittime. I loro ospiti sono i bersagli più vulnerabili del nuovo coronavirus oltre che gli operatori stessi che assistono i 65 residenti in struttura e che da un paio di settimane sono in una situazione emergenziale anche per le quarantene del personale. Chiaramente noi abbiamo avuto la possibilità come tutti di effettuare dei tamponi solo sulle persone che hanno presentato delle complicanze. Questo ci ha portato a non avere la possibilità di fare i tamponi diciamo a tappeto ma abbiamo effettuato 20 tamponi con 20 risultati positivi. Questo ci fa pensare comunque ragionare sul fatto che potenzialmente possiamo essere possono essere infetti o comunque aver contratto il virus tutti gli anziani e anche tutti gli operatori. Di conseguenza abbiamo avuto anche delle defezioni con le varie quarantene in cui anche il personale mano a mano ha manifestato dei sintomi e alcuni di loro hanno effettuato il tampone e sono risultati positivi anche loro. Come nelle strutture pubbliche anche in quelle private è incomiabile l'operato del personale al quale va immensa gratitudine per professionalità e abnegazione ma è accorato anche l'appello alle istituzioni per avere un sostegno in questa situazione che d'ora in avanti non potrà che aggravarsi. Tutti gli enti preposti conoscono perfettamente la nostra situazione. Noi chiediamo di non essere lasciati soli perché è una realtà che diventa più grande di noi e mano a mano che si presenteranno comunque delle defezioni da parte del personale che è veramente superlativo. Io posso solo ringraziare ogni operatore che si sta spendendo mettendo in secondo piano la propria salute, la propria famiglia, per l'amore che abbiamo per i nostri anziani e per il nostro lavoro. Sicuramente la situazione potrebbe essere ancor più difficile di come adesso nel tempo quindi chiediamo di aiutarci, di non lasciarci soli in questo. Stiamo assumendo di continuo degli operatori che ci danno disponibilità. È ovvio che nonostante gli sforzi della cooperativa le defezioni in questo momento stanno arrivando comunque anche più corpose perché siamo nell'asso di tempo in cui se uno ha contratto il virus presenterà dei sintomi e quindi stiamo tamponando ma è una situazione comunque difficile.